Come è l'olio extravergine di oliva? Come sappiamo a causa della situazione c'è stata una forte impennata dell'e-commerce a livello italiano, a livello europeo, a livello mondiale per cui abbiamo deciso di mettere piede in questo mondo che è un mondo non così semplice però che ci dà l'opportunità di andare a coprire il mercato in fasce diverse. Quanto ha inciso e quanto pensate potrà incidere su quello che è il vostro fatturato? Abbiamo iniziato da poco per cui siamo agli albori ancora, diciamo un paio di settimane che l'e-commerce è aperto, abbiamo visto subito un grande interesse e questo credo che inciderà sempre di più col passare del tempo nel nostro fatturato. Noi lavoriamo molto con gastronomie, negozi specializzati, enoteche, ma anche con la ristorazione che in questo momento ha sofferto per cui cerchiamo di andare a ricoprire quello che era il ruolo forse anche del consumo nel ristorante con il consumatore che decide e sceglie di ricevere il prodotto direttamente a casa sua. Cerchiamo di dare informazione perché come sappiamo il web oggi è anche fonte di informazione, di risposta alle domande che ci poniamo sul prodotto, sulla coltivazione, sull'origine, sulla storia e sugli effetti benefici che ci sono dell'olio extravergine che è una parte che non è da sottovalutare, quindi tutto l'aspetto salutistico del prodotto.